musica musica si occupa il pallone parte velocissimo il tiro mamma mia che gol musica 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 ingresso in campo vediamo le squadre qui schierate al centro del campo in diretta dal pianeta calcio di napoli selezione contro san lorenzo squadre che ora si danno il 5 capite con me per il campo per favore per l'arbitro che ora chiamassi i due capitani ora ti trovi il crischietto sceglie il campo d'accordo scegli tu quale campo signore oltre che c'è il sole sorteggiati palla e campo possiamo andare inizialmente un saluto da bottec primo tempo tra selezione e san lorenzo risultato di 1 a 0 per la selezione ora seguiremo tutta la prima parte il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info secondo tempo tra san lorenzo e selezione risultato di 3 a 2 per il san lorenzo ora seguiremo tutto il secondo tempo del nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.